Il distretto del Golf Pugliese, o se preferite il Golf District a Puglia, è stato protagonista dell'incontro con la stampa nel Meta Resort di Terranobile a Bari, dove si è parlato di un modo diverso e sicuramente innovativo per esaltare uno sport in netta affermazione come il golf, coniugato alle potenti attrattive turistiche e paesaggistiche della nostra terra, ad un programma di eventi spettacolari e, ulteriore novità, ad un'assistenza a 360 gradi nei confronti del golfista. Pensate ad un emulo di Tiger Woods o dei nostri fratelli molinari che vuole raggiungere dall'Italia o dall'estero i campi della Puglia e che venga costantemente supportato nelle scelte del campo, della località turistica, dell'albergo e delle attrattive del territorio. Il business c'è. Basti pensare, per citare uno dei tanti potenziali bacini d'utenza, alla Russia. Più di 100.000 ai praticanti che in inverno si spostano in Europa per ovvi motivi di impraticabilità meteo. Perché lasciarli andare in giro in Spagna o per il Mediterraneo? Anche per questo hanno deciso di lavorare insieme la prima società di servizi dedicata al golf, Do You Golf, il Golf People Club Magazine, che si propone di mettere in contatto gli appassionati di questa disciplina, un consorzio importante con le sue 28 strutture ricettive di eccellenza come Terra Antica e Asso Apulian. Sul fronte competitivo il Golf District Apulia ha organizzato il primo circuito di gare chiamato Eccellenza di Puglia e che si articolerà nelle tappe del 30 giugno alla Caia Golf Club di Lecce, dell'8 luglio, al Bari Alto Golf Club e del 15 luglio al San Domenico Golf Club di Fasano. Al Meta Resorti di Terranobile a Bari, durante la conferenza stampa di presentazione, abbiamo incontrato Gianni Spano e Stefano Labbate. Diventerà un'assistenza totale e completa, sia sotto il profilo meramente sportivo per quello che saranno i servizi e necessità del golfista in sé per sé, sia per quelli che saranno delle necessità a livello turistico, quindi organizzare anche dei pacchetti e quindi dare la possibilità, giocando e giocando, di campo in campo, conoscere per bene il nostro territorio pugliese e far sì di promuovere meglio all'estero questa nostra bella terra. Si sta cercando altre forme di promozione turistica e sicuramente il Golf la offre su un elemento molto importante, io ritengo, di cui si parla tanto ma poi alla fine si agisce sempre in maniera non idonea, che è la destagionalizzazione. Sicuramente il Golf offre anche questa caratteristica, la Puglia offre il suo paesaggio, offre campi da golf che si stanno creando e questo progetto che è stato sottoposto è stato da me e da tutto il consorzio abbracciato con tanto entusiasmo.